154 sì, 110 no e 12 astenuti. Così il Senato ha dato il via libera all'arresto del senatore calabrese Antonio Caridi, coinvolto nell'operazione Mamma Santissima, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Dopo il voto favorevole espresso ieri dalla Giunta per le autorizzazioni, stamane il presidente del Senato Piero Grasso, dando luogo all'inversione dell'ordine del giorno per i lavori dell'Assemblea di Palazzo Madama, ha di fatto mandato in discussione la posizione di Caridi. I senatori di Forza Italia e del Galli in mattinata avevano letteralmente alzato un muro sollevando pregiudiziali, chiedendo la convocazione della conferenza dei capigruppo e chiedendo una sospensione fino alla data in cui il Tribunale della Libertà Reggio Calabria dovrebbe pronunciarsi sulla richiesta di arresto. Tutto inutile, dopo ore di dibattiti, l'esito del voto è stato conforme al giudizio della Giunta per le immunità, inutile anche l'intervento di Caridi che nel corso di un discorso durato oltre 15 minuti si era dichiarato innocente qualificando come illogico e non provato l'impianto accusatorio. È vero, non è questa la sede dove fare il processo, però è il luogo dove si può perpetuare un'ingiustizia ad un uomo, ad un cittadino, ad un parlamentare, in nome della ragione politica e di spregio al diritto e alla Costituzione. Io sono e mi dichiaro innocente e sono sicuro che questo mi verrà riconosciuto in sede giudiziaria e affido alla vostra coscienza di parlamentari l'integrità del Senato prima ancora che della mia libertà. Grazie.